Flavio Meola è stato eletto sindaco del comune di Montecorice. Grande consenso per Meola, che a capo della lista insieme per Montecorice ha ottenuto 1.305 voti con una percentuale del 78,278%. Sconfitto lo sfidante Ivan Chiariello, che con la lista all'alternativa ha ottenuto 362 voti, 21,72% delle preferenze. È un dato importantissimo che ci motiva e ci responsabilizza ancora di più a metterci al lavoro da subito. Stasera mi hanno detto che ci sarà la proconnessione degli eletti, quindi da domani mattina almeno il sindaco è nel pieno delle proprie del proprio mandato, quindi da domani mattina comincerò a lavorare, ovviamente poi si prepareranno tutte le documentazioni necessarie per il nome della giunta e entro 20 giorni andiamo in consiglio comunale della convalida e quindi la formalizzazione del Consiglio comunale. Ma io già da domani mattina sarò sul comune perché sono emergenze legate all'accoglienza dei turisti, quindi la sistemazione delle spiagge, degli arrimili, pulizia, il decoro del verde che è stato un po' trascurato in questi ultimi giorni di passaggio, di chiusura di un'esperienza di amministrazione che è durato dieci anni. Poi dobbiamo pensare al lavoro veramente duro perché dobbiamo già approvare il bilancio di previsione, cosa che non ha fatto la vecchia amministrazione e quindi è una delle cose che dobbiamo fare anche questo in fretta perché si sa senza l'approvazione del bilancio di previsione. Le spese possibili si riferiscono al dodicesimo dell'ultimo bilancio approvato. Dico questo per dire che il lavoro è tanto e ci mancherebbero neanche le risorse necessarie per quello che ci ha lasciato la vecchia amministrazione. Non voglio non è una critica ma non è un rispetto che hanno fatto a me come sindaco e alla mia squadra come amministrazione ma ai cittadini che vedono realizzare quei lavori piccoli, medi e grandi lavori che erano necessari e noi dobbiamo in qualche modo farlo. Adesso ogni mattina vedrò come e in che modo le carte mi permetteranno di fare questo. Grazie. Grazie.